Mr. Cipriani, un commento a caldo dei supportieri del Milan Camp di Cortina d'Ampezzo? Allora, intanto li abbiamo si dividi su due gruppi, un gruppo è un po' più grande, ha qualche anno in più e un gruppo sono più piccolini. Sono quattro per cui si può lavorare tranquillamente, stanno lavorando, come vedete sono impegnatissimi, posso anche avere la possibilità di avere una pausa perché loro intanto nel frattempo si arrangiano. Hanno voglia di crescere, logicamente al camp è un entusiasmo perché così si conoscono, esercizi diversi perché ogni allenatore poi porta le sue caratteristiche, però ecco abbiamo nei due grandi logicamente si può lavorare un pochettino di più sulla forza, sui piccolini diciamo così che è una cosa abbastanza più tranquilla. Oggi li abbiamo lavorati parecchi, questo è un esercizio che fanno quasi alla fine della giornata e quindi se vedete che magari sono un attimino stanchi è perché proprio hanno lavorato parecchi. Grazie.